Il Corriere della Sera, sintetizzando le raccomandazioni contenute nei libri 21 giorni per rinascere e La via della leggerezza, ha realizzato una lista delle 27 regole del dottor Franco Berrino per perdere peso e rigenerare mente e corpo. Eccole di seguito. 1. Dimenticare le diete miracolose. 2. Imparare a scegliere il cibo. 3. Mangiare cibo vero. 4. Superare i pregiudizi per dimagrire. 5. Imparare ad ascoltare la sazietà. 6. Mangiare poco. 7. Mangiare fibre vegetali per ridurre la mortalità. 8. Usare il gomasio al posto del sale. 9. Mangiare nei momenti giusti. 10. Masticare a lungo. 11. Fare il digiuno intermittente. 12. La colazione è perfetta, è salata e ad alto contenuto di fibre. 13. Basare la dieta su cereali e legumi. 14. Consumare zenzero per ridurre il senso di appetito. 15. Evitare cibi come patatine, patate, salumi, carni rosse, bevande zuccherate, ecc. 16. Osservare orari precisi. 17. Rispettare la stagionalità. 18. Mantenere bassa la glicemia. 19. Diminuire il consumo di proteine. 20. No ai cibi confezionati. 21. Amore e consapevolezza, anche in cucina. 22. Niente zucchero. 23. Dormire bene. 24. L'attività fisica è fondamentale. 25. Praticare la meditazione. 26. Fare 7 respiri consapevoli. 27. Ringraziare o perdonare.